Signori gentilissimi non sono professore, ma non occorre un titolo per insegnar l'amore, anch'io perciò desidero studiare la question, signori miei seguitemi con tutta l'attenzione, in questo caso parlo del bacio solamente, di quello puro semplice, di quello fogliardente, or definire semplice il bacio ricordate, l'unione di due anime che sono innamorate, che sono innamorate, che sono innamorate. Secondo me la pensano nel modo più banale, coloro che lo stimano un atto materiale, perché se due si baciano sapete che succede, un fatto importantissimo di cui nessun sa vede, intanto che si toccano le bocche strettamente, le anime si uniscono appassionatamente, or definire semplice il bacio ricordate, l'unione di due anime che sono innamorate, che sono innamorate, che sono innamorate. Le vostre mani stringono le mani dell'amata, le vostre labbra cercano la bocca profumata, il folle bacio alzandosi dall'anima rabita, una dolcezza tremula diffonde per la vita, però se differiscono i modi di baciare, i risultati è logico, dovranno pur cambiare, or definire semplice il bacio ricordate, l'unione di due anime che sono innamorate, che sono innamorate, che sono innamorate. Or definire semplice il bacio ricordate, l'unione di due anime che sono innamorate, l'unione di due anime che sono innamorate.